Dopo le parole forti contenute nella lettera di dimissioni dell'ormai ex direttore generale di Estra Alberto Irace, che di fatto scarica sulla politica l'accusa di ostacolare il raggiungimento degli obiettivi strategici, le reazioni non si sono fatte attendere. I sindaci di Firenze, Prato e Empoli si sono riuniti in una lunga call, durante la quale non è stata nascosta la sorpresa per la mossa inaspettata di Irace, con il quale verranno fissati incontri a due e poi uno generale per comprenderne la posizione. I sindaci a voci unificate lanciano all'ex direttore un messaggio chiaro, è la politica a guidare le scelte. Intanto è la sindaca di Prato e l'area Bugetti ad avanzare una sua proposta, organizzare al più presto un incontro di confronto sul presente e sul futuro della Multiservizi Toscana, coinvolgendo tutti gli attori in campo, soci, vertici del CDA e non ultimo i partiti. Un modo per la prima cittadina pratese per stanare tutte le parti in causa. Basta con le fughe in avanti, basta con le dichiarazioni a mezzo stampa di questa o di quell'altra parte, seguendo logiche che poco hanno a che fare con l'interesse collettivo. L'obiettivo deve essere tutelare i cittadini, garantendo servizi pubblici di qualità a tariffe competitive. Queste le parole di Bugetti.